buongiorno bianconeri bentornati sul mio canale ragazzi oggi volevo parlarvi di una cosa molto positiva weston mckennie sta dimostrando veramente di essere un giovane con grandi capacità ha dei margini di crescita ancora enormi però sta dando un contributo fondamentale sono già diverse partite che lo stiamo vedendo ha qualcosa in più ha veramente una grinta e anche una tecnica particolare ci sta stupendo moltissimo mckennie noi l'abbiamo preso in prestito dallo schalke 04 per un esborso di circa 4 milioni e mezzo ok come costo del prestito beh la buona notizia che vi posso dare è che a torino hanno deciso di riscattare weston mckennie quindi nell'estate del 2021 sicuramente la juventus eserciterà la clausola il diritto di riscatto e weston mckennie diventerà tutti gli effetti un nostro giocatore la juventus deve pagare 18 milioni e mezzo ma in base agli accordi questi soldi si possono suddividere in tre rate quindi praticamente pagheremo 6 milioni all'anno per i prossimi tre anni io credo che sia una buona notizia credo che sia un investimento importante credo che weston mckennie stia veramente dimostrando di essere degno della maglia della juventus di come si dice no è il tipico giocatore da juventus ok non ce lo saremmo mai aspettati sembrava un colpo di mercato un po sottotono nessuno lo conosceva a quanto pare è stato un nome suggerito dallo stesso andrea pirlo che di calcio internazionale se ne intende moltissimo veramente una cultura particolare quindi è un giocatore che lui stesso aveva suggerito alla dirigenza io sono molto contento di questa notizia che mi è arrivata insomma l'ufficialità che nell'estate del 2021 weston mckennie sarà riscattato dalla juventus voi cosa ne pensate secondo voi è un giocatore che merita di rimanere alla juventus di essere una base fondante della juventus del futuro vi piace non vi piace ditemi la vostra qui sotto nei commenti noi ci vediamo molto presto per notizie di calcio mercato succulente succulente per il momento vi abbraccio e sempre forza juve a a a a a a a a